Benvenuti sul mio canale, oggi noi continuiamo il lavoro, ieri vedete come sta venendo, sempre nell'orto di guido Aspettate questi toni che cazzaro, sono dimenticato di rimettere Continuiamo ragazzi Grazie 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 Sì, vai fare un'altra compagnia. Sì? Vai fare un'altra compagnia. Cosa? Vengo a fare compagnia. Sì. Sì. Come va? Come si chiama, signorina? Gina, ci siamo stati già al telefono, non ti ricordi? Ah sì, vengo, Gina. C'è bisogno a chiama, eh? Sì. Ciao. 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 Grazie. 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 Ci fermiamo di nuovo. Continuiamo ragazzi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.